Io vi chiedo di schierarvi, alle persone in fondo vi chiedo avvicinate, non vi dico votate il movimento, non l'ho mai detto, vi dico venite con noi. In cima ai nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani non abbiamo messo 400 leggi da fare, ma 400 leggi da abolire. Io vi aspetto tutti il 2 marzo a Piazza del Popolo a Roma. Grazie.